pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica è toccante commovente ci aiuta a rispondere a domande quali dove è dio nelle tempeste della vita e come affrontarle suddividiamo la nostra riflessione in due punti il tempo dell'intervento di dio e la fede nella tempesta partiamo dal primo punto gesù appena moltiplicato i pani la folla lo osanna ma egli non vuole essere scambiato per un santone allora cosa fa il vangelo ci dice che gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva è interessante abbiamo il verbo costringere in italiano significa indurre ad agire in un certo modo forzare imporre obbligare perché non soltanto perché i discepoli sarebbero rimasti volentieri in quella situazione di gloria probabilmente erano resti a partire senza gesù dato che lui salì su un monte a pregare ma di certo erano resti ad attraversare il lago di tiberiade la maggior parte di loro erano pescatori e conoscevano bene quello specchio d'acqua che loro chiamano addirittura mare ancora oggi se andiamo in terra santa da una certa ora del pomeriggio in poi non si effettuano navigazioni sul lago perché è un luogo dove spesso si incontrano diverse correnti d'aria capaci di creare perturbazioni proprio al centro del lago che possono degenerare in pericolose tempeste quindi miei cari i discepoli sono costretti ad attraversare il lago scoppia la tempesta e dunque si ritrovano ad affrontare proprio ciò che temevano di più dunque il pericolo di morire in mare o perlomeno di fallire la traversata abbiamo qui la sintesi di tutte le paure più profonde la paura di morire la paura di non farcela la paura di restare soli quante volte anche noi ci ritroviamo ad affrontare nella vita cose che mai avremmo voluto e la vita sembra portarti proprio lì ora mentre la barca è nella tempesta gesù è su un monte in preghiera nell'intimità con dio padre in fondo tutto ciò rappresenta la nostra condizione sia a livello ecclesiale che personale gesù è presso il padre è al contempo con noi certo ma invisibile agli occhi a livello ecclesiale la barca rappresenta la chiesa che solca il mare della storia e che si ritrova spesso ad affrontare tempeste tribolazioni interne pensate a scandali marasmi dottrinali e persecuzioni esterne pensate a quanti martiri oggi ma non solo la barca rappresenta la nostra vita quante volte ci troviamo ad affrontare tempeste tribolazioni interiori dubbi angosce paure delusioni e sofferenze e malattie e persecuzioni esteriori incomprensioni tradimenti a volte la tempesta arriva e tu lotti ti dai da fare ma essa perdura sembra non finire mai all'inizio ti sembra di farcela ma poi le forze vengono meno lo scoraggiamento incombe il buio sembra inghiottire ogni raggio di luce ecco allora il tempo di dio quando sei arrivato al limite quando ti sembra di non farcela più quando sei arrivato con l'acqua alla gola scocca l'ora del signore e quello uno spazio privilegiato per la nostra salvezza proprio lì quando ti rendi conto che da solo non ce la fai dio ti viene incontro e proprio lì può trovare spazio e proprio lì se lo accogli man mano illumina le tue paure più profonde allora puoi riconoscerlo e man mano sentirti libero allora puoi sperimentare la sua potenza nella tua debolezza gesù alla quarta veglia della notte cioè tra le tre e le sei del mattino arriva camminando sulle acque e l'ora più buia ma anche preludio alla luce e lui viene proprio lì proprio nel cuore del loro terrore i discepoli lo vedono arrivare e lo scambiano per un fantasma sembra una barzelletta ma mettendoci nei loro panni non era facile credere a ciò che vedevano ci suggerisce anche qualcosa di molto esistenziale quante volte il signore ci viene incontro ma noi scambiamo lucciole per lanterne scambiamo i segni di dio per casualità riduciamo belle dio incidenze a banali coincidenze oppure altre volte scambiamo le nostre lucubrazioni mentale per i segni di dio quante volte scambiamo dio per un fantasma lo preghiamo tanto poi arriva la sua provvidenza ma non ci crediamo chiediamoci sappiamo riconoscere il signore che passa ora miei cari entriamo nel secondo punto la fede nella tempesta i discepoli sono impauriti gridano per la paura e gesù li rincuora dicendo coraggio sono io non abbiate paura pietro allora risponde signore se sei tu comandami di venire sulle acque ha il tono della sfida ma in fondo c'è la qualcosa di importante miei cari pietro non chiede al signore di domare la tempesta chiede fa che io cammini sulle acque in fondo è il desiderio più profondo quante volte inizialmente chiediamo che le cose cambino che una difficoltà passi ma poi ti rendi conto che quella difficoltà resta e ciò di cui hai più bisogno è di essere reso capace ad attraversare quella difficoltà mi piace pensare che pietro ci insegna anche a chiedere signore se tua volontà fa che questa difficoltà passi ma in ogni caso dammi la grazia di affrontare questa situazione di superarla fa che io possa venire a te anche attraverso questa situazione e se la situazione che vivo non può cambiare fa che cambi in meglio il mio cuore proprio grazie a questa situazione e in questa tribolazione ed ecco la risposta di gesù vieni pietro ora pietro tenendo fisso lo sguardo su gesù fidandosi della sua parola inizia a camminare sulle acque compie qualcosa che umanamente oltre passeggia sulla tempesta miei cari quando vediamo ammalati seri docilmente consegnati nelle mani di dio pieni di luce di gioia non è forse un camminare sulla tempesta quando vedi una persona che continua ad amare e perdonare chi le ha fatto del male non è forse camminare sulla tempesta quando vedi un credente che attraversa un lutto serio con dolore composto certo ma a carico di speranza di luce propagatore di vita non è forse un camminare sulle acque nella tempesta miei cari qui non si tratta di un prodotto dei nostri sforzi ma di una grazia che il signore dona a chi come pietro tiene sguardo e cuore fissi in lui ora cosa succede che finché pietro tiene lo sguardo su gesù cammina sulle acque ma quando inizia a guardare il vento e la tempesta inizia ad affondare è proprio così miei cari finché teniamo fisso lo sguardo sul signore anche noi siamo resi capaci di camminare sulle acque ma quando iniziamo a guardare troppo ai problemi a ingigantirli a rimuginarvi sopra a pensare angosciosamente al domani la paura cresce l'angoscia divampa e iniziamo ad annaspare ecco in quei momenti che fare non vergognarci di gridare come pietro signore salvami è una bella preghiera che bussa direttamente al cuore di dio signore salvami e gesù prontamente lo afferra uomo di poca fede perché hai dubitato quel gesto di gesù che subito tende la mano e afferra quella dell'amico va contemplato a lungo ecco gesù è questo fa questo tende la mano ti tende la mano anche adesso dunque afferrala lasciati riacchiappare da lui e confida in lui certo che ha cura di te e uniti a lui siamo resi capaci di attraversare situazioni umanamente più grandi di noi perché perché ci stiamo affidando a lui che è più grande di ogni cosa e allora scopri che fidandoti del signore nella tua malattia che avanza la sua pace ti inabita e allora scopri che potresti essere incarcerato isolato e lì sperimentarti libero e allora scopri che puoi essere osteggiato perché cerchi di seguire il signore e sei reso capace di continuare a seminare il suo amore proprio lì miei cari se la vita talvolta ci costringe a entrare nella tempesta e per conoscere meglio il signore la potenza del suo amore e così pian piano crescere crescere nella fiducia diventare persone più libere libere dalla paura della morte libere di amare libere dalla paura di non essere libere non perché al ripardo a ciò che temono ma libere proprio in ciò che temevano standoci dentro non da soli ma con lui ci saranno momenti dove come pietro il timore ci assale il dubbio ci invade siamo tentati di pensare di non farcela in quei momenti non dimenticare lui è lì che ti tende la mano pronto a tirarti su non temere per lui sei importante non ti molla non ti lascia affondare ti chiede solo una cosa afferra la mia mano affidati alla mia destra confida in me e inoltre dato che l'amore di dio è mediato a volte questa mano tesa del signore potrà concretizzarsi anche attraverso la mano di un fratello di una sorella nella fede che ci offre il suo aiuto che tende la sua mano o che attende la tua mano cioè che tu ti lasci aiutare e di certo il signore chiama ciascuno di noi a essere sue mani tese anche per gli altri che il signore ci dia questa grazia di sperimentare la sua consolazione nella nostra tribolazione perché a nostra volta nel suo nome possiamo diventare strumento di consolazione anche per gli altri per aiutarli a sentire e sperimentare la vicinanza di gesù che ancora oggi ci ripete e ti ripete coraggio non è inutile ciò che soffri non sei solo ci sono io non aver paura fidati ne vale la pena che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti di